Sì, ma voi siete? Io sono Chiara, noi siamo dell'ex OPG. Buongiorno a tutti. La prima cosa che vorrei dire è che è la prima volta che mi capita di poter vedere di persona un ministro, perché normalmente quando ci avviciniamo ai palazzi qui ci sono iniziative, sono invitati membri del governo, normalmente ci sono le cosiddette forze dell'ordine che puntualmente ci caricano e non ci lasciano la possibilità di parlare che siamo alla fine di questo governo, si va giustamente in giro a fare passerelle per cercare di riconquistare un po' di spazio. Oggi a Napoli c'è il ministro del lavoro Poletti e l'incontro è sui giovani e il lavoro a sud. Qua parla prima di passaggio, quindi di gestione di ramo d'azienda, passando i lavoratori alle medesime condizioni. Alla fine del foglio, qua, parla di contratto Ampit Cisal, quindi non sono le medesime condizioni, tu ci stai mettendo in una situazione in cui avremo un contratto di lavoro che non garantirà nulla. Un lavoratore di Napoli sotterranea vorrebbe parlare con il ministro Poletti. E allora vengo subito a dunque, la testimonianza che io voglio dare è proprio un po' di bilancio di questo governo, in tutte le televisioni sentiamo appunto deputati, membri del governo che parlano dei grossi risultati nel mondo del lavoro, si parla di un milione di posti di lavoro in più. Allora i posti di lavoro, grazie al gelbato e al decreto Poletti, sono posti estremamente precari, su dieci contratti si calcola che uno solo ha il tempo determinato a nuovo e sono precari. E anche i contratti a tempo determinato, diciamoci la verità, ormai sono tutte le crescenti, il licenziamento è facilissimo, quindi chiamarli posti garantiti ormai è veramente un miraggio. E queste sono questioni importanti perché riguardano la vita delle persone, soprattutto al mezzogiorno riguardano la realtà in cui poi sei costretti a emigrare, sei costretti a scappare, sono storie personali di amici, di fratelli, di parenti che sono costretti ad andare al nord, tanto che il tasso di immigrazione dei ragazzi, dei giovani italiani è superiore all'ingresso degli immigrati nel paese. Sappiamo che le condizioni di vita peggiorano, per cui mentre si parla di crescita invece parliamo di 4 milioni di persone che sono in condizioni di povertà assoluta, 6 milioni di povertà relativa. È un po' difficile fare grandi finanzi positivi dopo questi anni di governo, sarebbe invece il caso, secondo noi a questo punto, di dire quello che forse anche in un compresso così va detto, che forse è il caso di cominciare a cacciare i mercanti dal tempio, è il caso che finalmente si riprenda parola anche all'interno di quei palazzi di potere, anche in queste occasioni ma soprattutto riprendendo quei palazzi del potere, perché evidentemente qua si è fatta una scelta molto chiara, si è scelto in più occasioni di garantire grandi agevolazioni alle imprese, sono più di 20 milioni, diciamo, grazie agli sgravi fiscali e invece di andare completamente ad attaccare quelle che erano le tutele dicendo che era il modello tedesco che dovevamo in qualche modo imitare, per caso che anche là persino l'Opse ci dice che non è con la precarietà che si costruisce l'occupazione, anzi che il mercato italiano in realtà era già più flessibile persino di quello tedesco e non lo dice la parte internazionale, lo dice l'Opse. Quindi questa è la verità, questa è la verità di cui bisognerebbe parlare. Grazie a tutti.